Sono diversi i semafori per il senso unico alternato che incontra chi percorre la Trignina, 7 in 70 chilometri di strada, un incubo soprattutto per chi viaggia quotidianamente per motivi di lavoro ma anche per i molizani che con l'arrivo dell'estate vogliano raggiungere le località marittime al confine con l'Abruzzo. La causa dei rallentamenti è dovuta ai lavori per la messa in sicurezza dei ponti a cui si aggiungono però anche le condizioni del manto stradale che paralizzano ulteriormente il traffico. Proteste e lamentele da parte di automobilisti e camionisti che ogni giorno percorrono la Fondovalle del Trigno, una serie di semafori rallenta il traffico ed è un problema che ogni anno d'estate si ripresenta, dunque noi li abbiamo ascoltati. Li mettono sempre nel periodo estivo, dovrebbero evitare se possono, magari farli nel periodo dove c'è meno traffico. Infatti sono un po' lunghi addirittura i lavori perché io mi ricordo che sono venuta l'anno scorso e mi sono fermata esattamente qua, vabbè certo bisognerebbe velocizzarli un pochino però. Fa perdere solo tempo. I lavori li dovrebbero fare di notte come in Germania, qui purtroppo per scendere giù a termine ci vogliono due ore. Ogni anno quando si deve andare al mare abbiamo sempre questi problemi qua, sperando che facciano in tempo i lavori perché sono anni alla fine che è così. Sicuramente sarà un problema per chi passa tutti i giorni per queste strade. Noi veniamo da Francavilla al mare e siamo arrivati qui per la bellissima spa e abbiamo impiegato tantissimo tempo, troppi semafori, questo è veramente un bel problema. Danno sempre fastidio, è normale, però si devono fare i lavori come facciamo. Però vedete che le strade sono sempre rotte qua.